E' stata inaugurata nei giorni scorsi la mostra di Ico Gasparri, che è il maestro del lupo cattivo. L'artista ha esposto presso il cantinone di Biella una parte del suo archivio, con il quale vuole dare un segnale forte che contrasti l'ormai comune utilizzo del corpo femminile per pubblicità. L'archivio documenta oltre 450 campagne pubblicitarie, che pongono la donna al livello di un oggetto da utilizzare per attirare l'attenzione del pubblico. E la mostra ha proprio lo scopo di far comprendere a chi guarderà quelle immagini, che non si tratta di banale routine, ma di un fenomeno che pervade la cittadinanza e che secondo l'assessore alle pari opportunità della provincia di Biella, Mariella Biollino, deve essere fermato per prevenire un modo di pensare che vede la donna come un essere disponibile, provocante e che può portare a veri e propri atti di violenza. La mostra è ad oggi.